Ciao a tutti, sono qui con la versione Kino dell'album degli EXO, Obsession. Qua ci sono le tracklist, ma è uguale a quella degli altri album. Mi piacciono un sacco le Kino, sono proprio carine. Allora, la solita scatolina, poi abbiamo il Kino, mi piace un sacco con la bandiera, qua c'è la fotocamera, poi abbiamo il biglietto illustrativo che vi fa vedere come si installa sul telefono. Ok, e abbiamo il photobook. Ok, c'è la parte XXO e la parte EXO. Guardate che bello Chen! Ok, qua finisce la parte EXO e qua inizia la parte XXO, esatto. Oh, guardate qui! Mamma mia suo! State calmo! Ok, adesso vi faccio vedere la fotocamera. Ah, che ansia! Oh, Beck! Che cucciolo! Tra l'altro ha fatto già il riflesso del telefono, credo. Sugar! Scusate il mio gatto. Che scemo! Bellissima! Ok, per questo unboxing è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao! Ciao!